Musica, giochi e divertimento anche quest'anno sono stati gli ingredienti vincenti dell'unticesima edizione della Befana Bianconera dello Juventus Club Doc di Caltanissetta Rampulla Pessotto. Una manifestazione che ha richiamato oltre 180 tifosi della squadra bianconera, soci del club, che si sono ritrovati assieme per trascorrere una serata all'insegna dell'allegria e della convivialità. Un'occasione per brindare al nuovo anno ed eleggere la Befana del club, titolo quest'anno assegnato a Rosa Fiandaca, che ha distribuito i premi e i regali ai più piccoli. Quest'anno la novità è quella che abbiamo cambiato location, quindi non è che ci siamo trovati male, per carità dove eravamo, ma quest'anno abbiamo voluto farla a Caltanissetta, dato che si tratta dell'undicesima edizione, solo e esclusivamente per far venire più soci all'interno di questa serata. Essere Juventino è un vando, esserlo Doc è un privilegio, questa è una cosa che mi sono inventato io e quindi è una cosa bellissima per tutti quelli che fanno parte dei club Doc. Ospiti d'eccezione dell'undicesima edizione della Befana Bianconera, presentata da Mariangela Riz e da Alessandro Silverio, il mitico stopper della Juventus a cavallo degli anni 70 e 80 Sergio Brio e l'attaccante Toto Schillaci, di cui si ricordano ancora le prodezze e i gol, al campionato del mondo 1990, dove conquistò il titolo di capocannoniere. Sono stati anni magnifici nella Juventus, stare per 16 anni mi hanno sicuramente inorgoglito, perché da piccolo fan della Juventus, fan della Juve, mi ritrovo a giocare nella Juve e poi fare l'assistente di Trapattoni. Quindi sono stati anni magnifici che ricordo affettiosamente e sono indelebili nella mia mente. Ci ricordiamo tantissimi successi, ma ci sono stati anche delle partite che abbiamo perso, e quindi quelle sono forse le partite che ricordo con meno simpatia e con meno orgoglio. Io intanto volevo ringraziare Lillo perché non è la prima volta che io vengo a Catanissetta e questa è la seconda volta che presento a questa manifestazione la Befana. E poi in comunità del Juventus Club DOC di Catanissetta sono molto contento di far parte e di essere qui stasera, soprattutto per festeggiare la Befana e poi il fatto che si parla di Juventus per me è un grande piacere e un grande onore perché essendo juventino da piccolo e poi avendo militato pure nella squadra della Juventus è un enorme piacere stare qui con lui. Diciamo che quel periodo dell'89-90-93 sono stati tre anni stupendi, favolosi, dove mi ha permesso di raggiungere obiettivi importanti, vincere qualcosa con la Juve e tuttora continuo a lavorare per la Juve, con la Legend e questo mi fa un enorme piacere.